riprendiamo da dove eravamo rimasti ovvero dall'arrivo al molo dei sassineri e dalle sue splendide trasparenze dell'acqua col kayak da mare lungo la riviera del conero dal molo dei sassineri fino alle due sorelle continuiamo a navigare in direzione delle due sorelle diamo un'occhiata in alto e vediamo il monte conero a picco sul mare un'occhiata in alto 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 tra i faraglioni delle due sorelle. Grazie. E qui finisce la prima batteria. E quindi, come per miracolo, eccomi sulla spiaggia delle due sorelle per cambiare la batteria alla GoPro. Bere qualche pozione magica. E fare qualche foto. Ok, siamo pronti. Si riparte. Grazie. Grazie. E andiamo a fare un secondo passaggio tra le due sorelle. Grazie. 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 Questo video è finito. Metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno pubblicati. Guarda altri video. Ce ne sono di vari generi. I video dei giri in kayak continuano. Ciao, alla prossima!